benvenuti dopo il video parleremo di una grande novità film is now vi farà la festa a dopo porca puttana come sei salito che ci fai qua che ci fai qua allora non devono vederti c'è qualcosa che non va ai problemi ma no va tutto bene ti lascio da qualche parte è chiaro so che li puoi battere devi avere fiducia e continuare vuoi mandare tutto all'aria sta tranquillo so quello che faccio sa quello che fa sta andando dritto in brasile la mia sorella racconta pure quello che ti pare ma a me di la verità non sono solo a bordo piano piano mi manchi da morire anche tu non vorrei arrenderti proprio ora senza di me puoi vincere come vi anticipavo prima per tutti i nostri iscritti abbiamo un interessantissimo evento il primo novembre data non casuale uscirà sul nostro canale in esclusiva la festa un film indipendente sperimentale di simone scafidi pensato per la rete proprio per abbattere confini territoriali e soprattutto censure protagonisti del film sono dieci ragazzi che organizzano una festa nella villa in collina di uno di loro l'irruzione nella casa di quattro adulti estranei sottopone partecipanti ad un macabro gioco ad eliminazione ripreso per intero da uno del gruppo e consegnato ai genitori alcuni mesi dopo le riprese pensate sono state realizzate in soli dieci giorni girando in sequenza dal tramonto all'alba sottoponendo agli attori per lo più esordienti ad una dura prova professionale ma anche emotivamente creativa il film sarà visibile gratuitamente solo ed esclusivamente per voi per i nostri iscritti in dieci puntate assolutamente da non perdere ovviamente invito chi ancora non l'avesse fatto a iscriversi al nostro canale per non perdere la possibilità di seguire questo evento che sta già riscuotendo molto interesse e molto successo tra i social network grazie per averci seguito e mi raccomando partecipate anche voi alla festa a presto grazie